Ciao a tutti. Allora, com'è il tuo nome? Aessio Marvona. Va bene, Alessio. Alessio, quanti anni hai? 37, oggi. Ah, happy birthday. It's a birthday. Happy birthday. Ok, 37. And you're from Rome? Yeah, hai detto? Yes. Benissimo. E hai mai avuto interventi chirurgici di che tipo? Ho avuto una ricostruzione di legamento crociato posteriore. Ok, so you already got a surgery on the left knee? E basta. Ok, that's enough. Che fai di lavoro? Sport? Allora, io no. Faticamente lavoro, è un lavoro sedentario, sono un sales manager per un'azienda di noleggio. Quindi computer? Sì, direttamente passo 9 ore al giorno al computer. Ok, sto sitting the whole day. E a livello di sport? Eh, nulla, perché dopo l'incidente, diciamo, ho abbandonato un po' lo sport. Ma ti piacerebbe fare qualcosa? Sì, il problema è che non ho mai recuperato benissimo. Il ginocchio? Il ginocchio, ma non ho recuperato. Allora, let's focus on the knee. Perché non si rica più. Sì, non ho mai recuperato da un'azienda, quindi probabilmente abbiamo un'azienda. E abbiamo bisogno di controllare, probabilmente abbiamo recuperato qualcosa di più altra. Quindi, abbiamo lavorato sul piede, molto interessante. Come se sentissi meno? Più ovantato. C'è un'azienda. Ok, è un'azienda. Ok, è un'azienda. Ok, è un'azienda. Ok, allora, partiamo da qua. Bravissimo, abbandonato, del tutto. Ok, semplice. Hai visto? Sì, è un dolore. E andremo sempre più a fondo. Sì, ok. Arrivare a un reset totale e poi vediamo appunto come va. Perché quando non c'è più niente in mezzo, abbandona tutto, rilassa tutto. Bravo, morbido, morbido. Bravissimo, perfetto. Oh, questa era complicata. Ci sei? Sì, scusa. Il concetto è meccanico. Tu sei la vertebra sopra e la vertebra sotto che stai per compressione strizzando la caramella gommosa. Ok. Se strizzi, il liquido della frago lascia fuori dal nucleo della caramella. Quel nucleo che è uscito fa un'ernia. E l'ernia va dietro e va a comprimere, quindi midollo e radici nervose. E dopo c'è il dolore che si irradia. Ok. Ok, questa è la meccanica. Quindi la cosa migliore sarebbe semplicemente quella che stiamo facendo. Se questa è la compressione, allargare. Bravo. E lasciare. Ok. I just explained in Italian that, for example, for a discal disease like a hernia is just a meccanical cause. So we have to reduce the pressure. We apply between two vertebra and it will be the crack. So we just make this unlock technique like this. And then we release the pressure. So we reduce the pressure we got on the spinal cord and the nerve roots. Bravo. Più rilassato che puoi. Lascia abbandonatissimo. Bravo. Fai fare a me. Perfetto. Rilassato. Bravo. Questa è già buona. Ci siamo. Fai fare tutto a me con calma. Allora, piegati in avanti. Torna su. Ok. Just a quick look on the knee. Eh, ma qua c'è margine. Si può fare. Si, si, si. Lo faceva male. Ma lo vuoi fare? Lo possiamo pure organizzare la prossima volta, ma uno sblocco del ginocchio si può fare. E' so scared about this knee, but we can unlock the ginocchio, yes, it's painful, but we can do it. So that's the, you can see from here, that's the start point, and then we try to reach with this bone, the gluteus, so we have to close the whole ginocchio. We can do it. Come va, eh? Iniziare il tendine rodulio. Mamma mia, il peso. Ok, con calma, con calma, con calma. Non avere paura, eh? Te lo sento io tanto. Bravo. Con calma. Bravissimo. Senza paura, eh? Ok. Piano, piano. Mi tira dentro. Dietro. Ah, 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 ah. Hold on, hold on. I'm coming, hold on. Ah, ah, ah. Ci sei? Ah, è doloroso. Ce la fai un altro pochino? Ah, ah, ah. Iniziate a far malissimo dietro. Ok, pausa, bravo. Piano, 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 bravissimo. Piano, piano, piano. Ci sei? Sì, sì. Ok. Manca poco così, eh? Almost there. Se resisti, la chiudiamo. Ok. Dai, dai, fruio. Pronti? Che sento tirare. Esatto. Dentro. Guarda, te la chiudo tutta. Lascia il ginocchio su, così fa meno fatica. Bravo. Andiamo. I have to use my whole body to do it. Bravo. Bravo. Se resisti, espalda. Bravo. Bravo. Almost there. Guarda, guarda, guarda. You can see that? Mm-hmm. Pop, 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 pop. Oh, Dio. Jack, come downward. Look. Yes, you can see that. Yeah. It's touching, you see? Yeah. You see the heel is touching the gluteus? Mm-hmm. We got it. Stop, stop, stop. Oh, Dio. Ok, we made it. Ah, fine. You never did it before? Never. Yeah, I see. Fatto. Dopo, rimani con la fisorepista di là e ti farò fare questa cosettina fatta bene. Ma vedi come è facile già? Adesso il tiraggio è qua. Vedi? Easy. Easy. Mamma mia, vedi come ci va. Now, it's much easier. Yeah. Perfect. Before, he wasn't able to do it. Now, much easier. Incredible. Yeah. Just one minute stretching. Oh, mamma mia. It's fine. It's fine. Vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, bye. He came here for the cervical and then he got a new knee. Ok, let me check the rest. Ok, and here we go. Perfect. Questo è praticamente quel poco che farai con la fisorepista. Perché poi te la cavi da solo, ti insegniamo l'esercizio. Viene un bel lavoro. E il ginocchio è recuperato, eh? Sì, sì. Perché non era mai stato fatto questo forse per paura di lavorare sul dolore. Sì, perché soffrivo veramente molto. Esatto. E invece hai visto che ci siamo usciti. Unlocking the knee is very painful. And sometimes most of the therapists are scared to break it. So that's why they don't dare forcing the joint. But we have to force it, carefully, but we have to do it. And then we have to do it. Ok, 3, 2, 1 Oh, oddio mio Ci sei? Facciamo una pausa e facciamo una prova Allora Senti che roba? Cammina, cammina, sciolta Ok, già noto che quando cammino non faccio più un mezzo passo falso perché riesco a Infatti vedi che ti eri preparato con una camminata e hai cambiato Sì Ti vedo come funziona E adesso questo lavora bene Prova a piegarlo Vedi? Settimo a diversi? Sì E questo lo recuperiamo tutto perché ci potrei fare gli esercizi sopra Tutto Ok? Un problema in meno Vai! Pancia in su Ritorno Sì Lascia le gambe rilassate Giù Tutte e due Buttele fuori, buttele fuori dal lettino Bravo Bravissimo Ancora una Bravo Pancia in su Rilassato Lascia cadere le gambe Abbandonatissimo Bravo Abbandona Abbandona Ancora una Ancora una Basta Buono Pancia in su Bene Qui siamo già in alto Allora Allora rilassati Bravo Bravissimo Questa è una Importante Anche questa Importantissima Senza paura Pausa Eh bello Importante Lo facciamo due volte L'anno Ogni sei mesi In mezzo ogni tanto si va dal fisioterapista a fare dei mantenimenti E adesso si fa sport Si sta da soli Si fa la grande Abbandona tutto Bravo Bravissimo Questa è una Importante Anche questa Bravo Basta Pausa Vedi che è tutto localizzato di su Comodo Non ho giù rilassato Bravo Più rilassato che puoi Bravo Più rilassato che puoi Bravissimo Ci siamo Pausa Tieni un attimo forte qui agli angoli La lanca col ginocchio non te la tratto Ok Andiamo direttamente Sull'altra Sì Tieni forte Tieni forte Bravo Ci sei? Si Non me l'aspettavo che era solo Eh Era questa Tutto bene? Si si Vai Questa te la controllo piano piano No eh No Questa è lasciata in pace Ok Vieni un po' più su Testa di lato Braccia con i fianchi Ancora un po' più giù se ce la fai Bravissimo E andiamo Abbandona No no buona già Bene Allora rilassa tutto Testa di qua con calma Bravo Piano piano Bravissimo Buona Allora Scegni un po' più giù con le gambe Bravo I call the team I can say the reinforcement I can say I call that Reinforcements Reinforcements Yes Allora Vieni un po' più su Braccia con i fianchi Testa di lato E ti rilassi Allora non ti spaventare Perché adesso Giulia sale sopra con i piedi All'osso sacro Se avessi qualche fastidio Ce lo dici Sennò ti rilassi E noi spingiamo il panico Va bene? Ok Rilassiamo il possibile Fattibile? Sì Ok Testa appeso morto Rilassate Andiamo Ok 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 Buono Ci siamo Ok Perfetto Grazie Grazie a te Oh Ci siamo Solleva la testa Giù Bravo E scendiamo ancora più giù con i piedi Bravissimo Ok Allora questa goditola Tranquilla Bellissima Faccio tutto io Solleva la testa Giù Bravo Allora andiamo con calma Perfetto Fattibile Bravo Bravo Ok Prenditi il tempo che serve Ok Prenditi il tempo che serve Che la fai? Sì 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 Wow Ok Questa non me l'aspettavo No Wow Dai gli tempo È stata più pesante e profonda del previsto Ti fa capire quanto fosse necessaria È stato proprio centrale E la stai assorbendo Diamo gli tempo Tanto a livello neurovegetativo Quanto a livello fisico Quindi aspettiamo un attimo Wow Ho sentito proprio un calore Che sa che non Uff Come va? Benissimo Bene Aspettiamo un secondino La ricontrolliamo Ma praticamente a vuoto E poi ci siamo Perché come capisci Non c'è più niente Da Da sbloccare Abbiamo fatto tutto Allora Sei pronto? Vai vai La seconda è completamente diversa La vedrai A paragone Vieni ancora qui giù Torno giù Sì sì Bravo Brasta Ti rilassi Perfetto Fai a fare a me Comodo comodo Questa va praticamente a vuoto Andiamo solo a controllare Qualcosa rimasta Bravissimo Senti la La differenza Senti come già È È rilassata Bene Bravo C'era giusto Quel finale là Hai visto che differenza? Sì E questo ti rende l'idea Fantastico Basta Anche volendo Non abbiamo più nulla Da Da bloccare Quindi l'obiettivo È proprio quello Di fare Un reset meccanico Di quello che parlavamo Sì E capisci che Più forte di questo Insomma Non c'è nulla Tutto quello che abbiamo fatto È stato preparatorio A questa tecnica Ok Quindi tutti i lavori Fatti prima Gli sblocchi Servivano proprio Per poi Permettere questa trazione Precesa Altrimenti se la facciamo Tanto per farla Diventa un Bah Un tirare tutto a livello globale Invece no Certo C'è un lavoro specifico E poi nemmeno dunque E poi nemmeno dunque E poi nemmeno dunque Ci sei? Ci sono Ci sono Perfetto Mettiamoci seduti Che ci riprendiamo Aspetta un secondino Forti Passa in piedi E fa esattamente questa cosa Che ti faccio vedere Con una bella ispirazione Gira la testa Un po' Seduto Seduto vai Il gatto è bellissimo Aspetta Leggermente Aspetta Aspetta Aspettiamo Allora Appena sei pronto Con calma Non c'è fretta Aspettiamo Pronto? Ok Vai Passa in piedi Facciamo questo Una bella ispirazione Con le braccia Che toccano le orecchie Faremo questo Proprio A scrocchiare Vai Bravo Sciogli tutto E ne fai un altro Vai Basta Sciogli tutto Rilassato Rilassato Bravissimo Apri la testa Rimani in questa nuova postura Perché adesso lo puoi fare Ci sei? Si Basta Ok Come li senti? Grinato Hai visto? Leggerissimo Esatto Basta È stata pesante È stata forte Un approccio Ma è andata la grande Mamma Questo lo facciamo Due volte Ok Una volta al mese Ogni due mesi Ti vedi con la fisioterapista C'è un risparmio economico C'è un discorso Di fare un lavoro Non solo Di mantenimento Ma proprio perché Andiamo a fare altre cose Quindi lavori muscolari Tiraggi È una cosa abbastanza profonda Ok E poi tra sei mesi Ci rivediamo Questa è la cosa Non ti metto neanche un richiamo Un mese Perché è già sistemata Se no nei casi più gravi C'è pure un richiamo Un mese Ok I just was explaining That we used to Make this kind of treatment Every six months So twice a year It would be enough And just for the Most several cases I used to See the patient After one month But in that case We don't need it And every month We can continue The treatment With the fisioterapist Because it will do A different job For mine So Making a very deep stretching And treat all the things That I don't use to To treat That's the The whole team working Ok Basta Ci siamo Facciamo un saluto a loro Che ci hanno guardato Ne facciamo sempre Questo scrocchietto sul finale 3, 2, 1 Bye bye Thanks for watching Bye